l'impresa del giovane andrea damiani di bosco nero riportano l'attenzione sul pugilato in canavese abbiamo intervistato lui e il maestro alessio fornanchi ci raccontano come la box sta aumentando il suo impegno sul territorio sono così tante persone che vengono vedere si incitano ancora ha provato questa questa emozione che sono tutti di parte è bello ma lo stesso tempo ti carica anche di responsabilità diciamo però la box è uno sport che permette il riscatto tra i ragazzi che arrivano da altre discipline che non sono trovate bene sono stati scattati e vengono noi abbiamo creato una bella famiglia un bel gruppo e ti ripeto riprendiamo cinque sei anni in avanti l'appuntamento per l'intervista è martedì 5 marzo ore 21 su un tv web